Monica di Vallelunga, inizialmente non dovevate esserci all'interno di queste manifestazioni dell'edizione 2019 del Carnevale e poi invece sarà così, con un progetto particolare, quale? Eh già, abbiamo presentato due associazioni, il Gatto e la Volpe, Nuove Evoluzioni di Pietro Di Mino, abbiamo presentato le buste per partecipare all'edizione 2019, bando di concorso e non ci hanno accettato. E da lì nasce, perché comunque c'è sempre l'entusiasmo di fare Carnevale, e da lì nasce l'idea di non perdere un progetto e di tirare fuori una piccola idea. Una piccola idea nominata Mosca Ceca, è un carro fuori concorso, gruppo mascherato perché bisogna dargli un titolo, ma realmente è un minicarro. Dietro a questo progetto c'è un... è venuta fuori un'idea, secondo me, bellissima, dove noi come associazione la realizzazione del minicarro è tutta a spese nostre. Dietro però, insieme all'associazione Cechi, nazionale Onlus, ci sarà una raccolta fondi, cercando di sensibilizzare tutta la cittadinanza, la regione Sicilia, quello che sia, tutto quello che viene sarà un bene. Per raccogliere una cifra X, che non si sa, io dico sempre può essere 10 euro, 1000 euro, 10.000 euro, tutto sta a come risponde la città a questo nostro progetto. Per poi, a fine serata, nell'ultima serata di Carnevale, prendere questo assegno in carta pesta, darlo a questa associazione, ringraziando tutti perché realmente c'è un appoggio morale. Ci sarà, spero. Ieri è stato aperto il conto corrente e spero che ci sarà realmente una sensibilità da parte di tutti. Per poi arrivare a fine manifestazione ed essere felici di aver fatto un progetto completamente differente rispetto alle altre edizioni, perché una cosa del genere realmente non si è mai vista. Non c'è niente di immaginario, non c'è nessun scopo di lucro, non andiamo cercando soldi a casa di nessuno, è tutto spese nostre. Il sindaco ha accolto, insieme all'assessore al dottore Todaro e insieme all'assessore Mario Tulone, hanno accolto bene questo progetto. E da lì, poco alla volta, un passo dopo passo, siamo arrivati oggi a poter dire che sarà un carro, un'opera d'arte in carta pesta a scopo beneficiario. E l'invito alla città? Sai che cosa chiedo? È semplice, semplice. Sai, io dico così, siamo 40.000 abitanti, a 50 centesimi per uno sono 20.000 euro. E se fossero anche le 10 e se fossero anche i 1.000 va bene lo stesso. La cosa un pochino scomoda è che devono andare a fare un versamento su un conto corrente bancario. Però è un attimo, quando si vuole fare una cosa, fai finta che vai a comprare mezzo chilo di pane, ti fermi e invece vai a fare 5 euro di beneficenza. Io invito tutta la cittadinanza sciacca ed intorni a fare questo piccolo gesto per un contributo che alla fine sarà uno scopo di solidarietà e di beneficenza verso persone che hanno veramente bisogno. Grazie a tutti.